Ogni kill che faccio lo schermo si rimpicciolisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore forto così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ragazzi ci stiamo dirigendo all'agenzia per tentare la sfida di oggi che ogni kill che faccio il video finisce Una challenge un po' diversa dal soldo, mi andiamo un po' a divariare Vediamo un po', ho provato a registrare la su code Voglio essere sincero con voi ma ho avuto seri problemi nel registrarla Perché mi è risultato troppo difficile dato che stavo giocando da solo Allora, sta un tizio sotto, va bene Comunque ragazzi ora stiamo giocando con Emgreen Un ragazzo con il quale gioco spesso in live, si accetto volentieri uno scellino Se anche voi volete giocare in live con me ragazzi ogni sera alle 21 siamo online sul sito Viola Vi lascio nella sezione live streaming in descrizione Il link dove potete accedere e iniziare a seguirmi sul canale Viola appunto per non perdervi tutte le prossime live che arriveranno Eh no Dai è sceso che noia Vabbè Eh che brutta situazione Lascia stare guarda io non mi fido più del nonno Non ci arrivano manco i proiettili Uh bella sta kill, grazie mille Sì me lo so accorto Infatti c'è Dai Quanto tempo ha la tua scheda? Ah ma vado dalla tua scheda eh Forse era Midas Guarda come mi elimina eh Ah ok Non materiali? Eh devo cercare sempre di stare full vero Pensavo fossi un bot Cioè pensavo fossi un nemico Da ciò sono uscito Basta Sì Si stanno curando Si sono curati con lo spara band Cosa? No però l'ho lasciata Però l'ho lasciata Perché mi serviva tutto Ah ok Meno male Sì ma basta Si moltiplicano Oh Eh dai eh Pure è la mia mira eh però Cioè guarda quanti sono? 5, 6 Ma quanti ce ne stanno? Eh sì Solo che abbe sarebbero state comode contro Quei due tizi Che perché c'è sotto sta gente Madò Lo schermo se sta fa minion Nammo dai No vabbè No no Non è proprio il caso Guarda fra non è proprio Che brutta situazione Ti passo Ti passo le pozze piccole Sì c'è chinata ma la sento proprio nella giugolare Capito? Dietro la nuca Scari in una cazza Stai ripieno di ciorta eh Andiamo a prendere L'elicottero Eh non posso Eh io 4 Bot bot Abbiamo ancora bot Elicottero Si avvicina Uno no shield Uno è caduto in acqua Fatto fatto Uno eliminato Interrogo L'altro è no shield L'altro è no shield Coprimi coprimi Ah Cazzo ho lanciato Che mi ha fatto danno Ciao Ah Ma è un altro team Scendi scendi Sta arrivando un altro team Fra sta arrivando un altro team Dobbiamo fai dare Con calma Con calma Credo siano sopra Oh cazzo Sì Te li passo Te li passo Vai vai Sta arrivando più gente Sta arrivando più gente Se li ho passati dietro Sta a fare una situazione troppo particolare per qua Dovremmo salire sul tetto A materiali come stai messo Camminiamo così Vai vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ah hanno preso la Sì jumpiamo noi con loro Vai Sì sì vai Tranquillo Tranquillo No dai No no fra fra No in quella direzione In questa In questa In questa In questa Copriti 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 subito Stanno a push L'altro team li sta pushando L'altro team li sta pushando Stanno due team Fra due team da due Si stanno fightando Quando vuoi possiamo fightarli per me Fra guarda la safe Fra guarda la safe Vieni vieni fra No 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 è proprio una cosa Cominciamoci a avviare Pure utilizzando il corso d'acqua Non fa niente Ma dobbiamo assolutamente avvicinarci Perché siamo messi male Più che altro io ma tre ali Sto proprio zappato Stanno là quelli Quando ci avviciniamo in safe Si fa particolare la situazione Perché avevamo troppa gente dietro Quindi va a finire che Ce la ritroviamo Che fa Il pellegrinaggio Qua se vuoi ci sta Il coso per Modificare le armi Hai assalto per caso Proiettili Ok allora vediamo Passiamo un attimo i colpi qua dentro Assalto vai Al volo Giusto perché io Sia La drum Sia l'assalto Non sto messo male Va bene va bene va bene Stanno là frate Quelli veramente ce li potremmo tenere in safe La safe si chiude bene per loro No si è chiusa bene Se li sono eliminati frate Possiamo pushare Ci hanno visto Ci hanno visto No no lascia lascia tranquillo 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 Lascia Madonna Dai che falle Uno ci ho fatto 100 Madonna Non so giocare Sono entrato Eliminato eliminato Sto attento al compagno Sto attento al compagno Sta fuori Stanno due team Stanno due team Due team Vattene 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 Mettila 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 Vattene io pure io ce l'ho La piazzo per me Vattene La piazzo qua vai Levato 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 L'ho eliminato Sono rimasto qua Perché ho visto che Stava martellato Non fa niente Eh lo so Vai scendo Hai colpito Mamma mia Come è andata male Sì sì Sto facendo 8 kill Mamma mia lo schermo Si sarà fatto Veramente Piccolissimi Sta ancora altra gente Basta Basta Mamma mia Quanti sono No no Ce l'ho spara bende Ce l'ho spara bende Vai 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 Tranquillo vai Fattelo Fattelo se devi il medikit Fattelo Io sto aspettando che si ricarica una benda Ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho due medikit Ce l'ho due medikit Vieni qua Vieni qua Aspetta E accetto volentieri legno principalmente Ti lascio 12 razzi Vedi tu quanti te ne servono Il resto lo prendo io Non sappiamo dove stanno gli altri Fra sentiamo Cerchiamo di metterci su quel palazzo Forse potrebbero starci però su quel palazzo Ci stanno Ci stanno Ci stanno Sì sì Sparate Sparate Vai vai divertitemi Eh quello sì Vabbè ma la safe teoricamente dovrebbe chiudersi fuori da quella zona Aspetta Cerchiamo di andare in safe Cerchiamo di metterci bene in safe noi Cioè più centrali scusami Intendevo quello Eh lo so il problema è che noi abbiamo ancora 9 persone in giro Sta gente è là sta a feita Mi era venuto come in coda di appoggiarmi alla finestra Ma non posso No no stanno feitando Sono occupati almeno per ora Quante pozzette hai? Ma su di noi? Eh sì No o in realtà no Eh vabbè Sono comparse delle pozzette Belle Per ora no Non facciamoci ancora sgamare Più che altro la mia priorità sarebbe sparare i nemici che arriveranno da dove stai reboot Verso west Cioè ovest Io guardo la zona di sinistra È uno fra è uno Lascia stare lascia stare Se sparano te lascia lascia stare Peccato perché quello è fastidiosissimo Sta qua sta qua sotto Ah sta pure un altro team Mica hai jump Ok allora tienitele tienitele vai Va bene Se ancora là sotto Sì Sare le pistole di deadbull Non voglio fare cazzate Non le so usare Non posso No lascia stare lascia stare Fa niente Però ci dobbiamo rimettere dentro Ci dobbiamo rimettere dentro Sì sì l'ho sentita Passami una jump piccola Una jump Una jump al volo Ok Entra 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 vieni qua Sta gente qua L'hai fatto sul serio Eh ma non così Entra in safe Entra in safe Entra in safe Ce la fai Ce la fai Dai che no Non credo di poterli animare Vabbè ma stanno Sono quelli da là sopra Sono a rompe Non ci daranno tregua Ti hanno visto morto Ti hanno visto morto Fra io guardo Io ho tutte cure Io mi barrico Io vado di oltranza Che devo fa' Ok No